L'avete chiamata Operazione Verità, fare chiarezza sull'ex sito industriale Montecatini di Piano d'Orta di Bolognano, anche dopo la conferenza stampa nei giorni scorsi di Fratelli d'Italia. Perché questa Operazione Verità? Intanto perché il consigliere Testa ha bisogno di fresco, di ombra per un po' di tempo per recuperare le sue forze, perché ha dichiarato cose inesistenti e contraddittorie. E' fuori dalla grazia di Dio perché le ordinanze su Edison emesse per il sito di Bussi e Piano d'Orta sono ordinanze emesse dalla Presidenza di Marco negli anni che vanno del 2014 e del 2018. Lui ha fatto tutt'altro, il 7 ottobre 2014 comunicava al Ministero dell'Ambiente che non era stato possibile trovare il soggetto inquinatore e che non avrebbe partecipato alla conferenza di servizi. Quindi dire oggi che è un lavoro fatto dall'attuale centrodestra o dall'attuale gruppo di Fratelli d'Italia in regione, in provincia e nel comune di Bolognano è una contraddizione parese. Ma io questo lo addebito a chi ha bisogno di evidenza per essere presenti sul territorio. Noi parliamo con gli atti amministrativi, ci sono le ordinanze. Il Consiglio di Stato ha già decretato la responsabilità in capo a Edison definitivamente per quanto riguarda Bussi. Lo sta per fare definitivamente anche per Piano d'Orta e la sentenza ci sarà a dicembre. C'è questa ordinanza emessa dal sindaco protempore di Bolognano che dice che la responsabilità della demolizione deve essere in capo alla proprietaria attuale, la Molligian, ma già ho letto cose che ha detto la Molligian al riguardo. Credo che ci sia un rallentamento eccessivo delle procedure dettate proprio dalle ordinanze emesse dal sindaco di Bolognano. Sono due anni che si è insediato, sono due anni che questo disinquinamento non avviene e probabilmente qualche problema in più ci sarà per i cittadini che vivono a Piano d'Orta. Quindi ribaltare il tavolo e dire che le responsabilità sono altrui, insomma, io li consiglio vivamente entrambi di studiare, leggere le carte e poi fare le conferenze stampa. Io auspico invece che la regione prenda in mano la situazione di Piano d'Orta seriamente e come ho sentito dire anche dal consigliere Brasioli si possa fare un tavolo istituzionale che vada a ragionare con la Molligian, vada a revocare questi atti amministrativi che sono stati già sospesi dal TAR, alcuni già annullati, addirittura ordinanze emesse dal sindaco, revocate da lui stesso e si comprenda un percorso unitario che acceleri tutte le procedure messe in campo. Ecco, io credo che quando si parla di ambiente, di territorio bisogna stare molto attenti e bisogna aver fatto bene gli atti amministrativi perché dare solo le responsabilità dichiarate in conferenza stampa senza supporti amministrativi diventa veramente qualcosa di ridicolo di cui si può fare a meno perché si ingenera confusione nei cittadini facendo pensare cose non esistenti. L'amministrazione provinciale, regionale e comunale di centro-sinistra, contrariamente a quello che ha detto il consigliere Testa, sono quelle che hanno lavorato per portare a fare le ordinanze di cui oggi tutti parlano. Quindi io sono pienamente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto noi. Sono preoccupato per il lavoro non fatto dall'attuale gruppo di Fratelli d'Italia capeggiato da Guarino Testa. Grazie. 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 Grazie a tutti.